capitale della cultura pesaro tra le dieci finaliste addio a boscarini morto il grande industriale del monte feltro tamponi agli studenti alla farmacia di soria parte lab dedicato sport vittorie d'oro per visse megavox la vl si butta via buona serata a tutti voi amiche amici di rossini tv ben ritrovati a rossini news il nostro telegiornale in questa edizione di lunedì 31 gennaio ultimo giorno del mese primo notiziario di questa settimana che apriamo con una bella notizia arrivata questo pomeriggio perché è stato annunciato l'ingresso ufficiale della città di pesaro fra le dieci finaliste per la designazione a capitale italiana della cultura 2024 da 23 città candidate dunque la lotta si riduce a 10 con ben due marchigiane grande soddisfazione per pesaro così come per ascoli piceno che entra a far parte della short list per la vincitrice che verrà annunciata nei primi giorni di marzo con le due marchigiane le altre le altre otto finaliste saranno le venete chioggia e vicenza la pugliese mesagne in provincia di brindisi la ligure sestri levante con il tiguglio la siciliana siracusa le toscane grosseto e viareggio e l'unione dei comuni campani pestum alto cilento e cambiamo argomento e parliamo di un lutto che ha scosso il montefeltro e non solo è infatti morto all'età di 68 anni una grande figura industriale del nostro territorio come quella di alvaro boscarini proprietario di 16 aziende con 850 dipendenti boscarini è scomparso ieri nella sua abitazione di pian di meleto dopo una breve malattia originario di belforte alisauro nel 1979 fu uno dei cofondatori della central tubi azienda di tubi in polietilene con sede a lunano il suo successo imprenditoriale lo portò poi ad espandersi acquisendo numerose aziende in italia e fondando la system group complesso di 16 aziende che gli hanno permesso nel 2021 di fatturare 460 milioni di euro boscarini nella sua vita si è contraddistinto per essere stato un imprenditore legato alle sue radici di paese ma con uno sguardo rivolto anche verso l'europa dando vita ad attività in romania francia e spagna domani martedì 1 febbraio alle ore 14 il funerale nella chiesa di belforte e ci occupiamo di un altro lutto ma di ben altro genere tragica fine ieri per un pensionato di candelara che è morto all'età di 72 anni schiacciato da una moto zappa mentre lavorava l'appezzamento di terra attiguo alla sua abitazione è stata una domenica tragica nelle colline di candelara qui dove ci troviamo oggi in strada molino mosca ieri ha perso la vita il pensionato 72enne gianfranco sorcinelli residente proprio in questa strada della frazione pesarese di candelara è morto dopo un incidente con la sua moto zappa con la quale stava effettuando dei lavori agricoli nei campi circostanti la sua abitazione campi coltivati a ulivi e vigneti una morte sopraggiunta poco dopo le 13 per una tragica fatalità l'uomo infatti stava lavorando sul macchinario agricolo e in una fase di retromarcia non si è accorto di un albero che era alle sue spalle e ha finito per perdere il controllo del mezzo agricolo con il manubrio del del mezzo che ha finito per fare pressione sullo sterno di sorcinelli finendo per schiacciarlo fatalmente contro la pianta alle sue spalle ad accorgersi di quanto accaduto è stato uno vicino della abitazione di sorcinelli che ha udito delle grida e ha udito anche il rumore costante del macchinario agricolo quando invece si presupponeva un una una sonorità più intermittente per il tipo di lavoro da effettuare in questi campi e invece c'è stato il drammatico ritrovamento dell'uomo riverso a terra con il macchinario agricolo ancora in funzione sul posto polizia vigili del fuoco ambulanza che non ha potuto fare altro che constatare il decesso si tratta di un altro incidente a distanza di qualche mese di quello avvenuto a maggio nelle campagne di fano anche in quel caso un pensionato di oltre 90 anni finì per perdere la vita in un incidente davvero molto simile aumentano i provvedimenti restrittivi in tempo di pandemia e soprattutto di allargamento dei luoghi pubblici in cui dalla data di domani servirà il green pass ricordiamo infatti ai telespettatori che dal primo febbraio il green pass base verrà richiesto anche per l'accesso a luoghi pubblici quali banche e poste e pure negozi ad eccezione di quelli reputati di prima necessità come ad esempio genere alimentari farmacie o rifornimenti di carburante e continua il lungo inverno di contagi quarantene e isolamenti in ambito scolastico una situazione davvero estremamente complicata per le famiglie che faticano anche a trovare appuntamenti per i tamponi ai propri figli un servizio che da oggi dovrebbe diventare più agevole con l'apertura del lab di tamponi dedicato in maniera specifica agli studenti si trova nella farmacia comunale di soria come ci spiega il presidente di aspes luca pieri che abbiamo proprio incontrato oggi sul posto farmacia di soria di pesero lunedì 31 gennaio primo giorno di un nuovo servizio che si apre in questo in questa farmacia comunale dedicata in maniera particolare agli studenti prezzi calmierati è un servizio che entra per dare una mano in più alla congestione di appuntamenti su queste farmacie che vivono da tante settimane questa situazione se abbiamo fatto questa scelta nel momento in cui il tampone antigenico è utile per l'uscita dalle quarantene scolastiche di dedicare un ab specifico proprio gli studenti e quindi andiamo dai tre all'ultimo anno delle delle superiori dietro per notazione abbiamo voluto dedicare perché negli ultimi 15 giorni l'odissea delle famiglie per trovare un posto dove poter fare un tampone per poter rimandare i figli a scuola dopo i cinque giorni di quarantena era tantissima insomma ricevamo centinaia di telefonate al giorno e abbiamo proprio fatto così creato questo ab che è dedicato esclusivamente loro su pronotazione e che riesce a sgravare anche il lavoro di tamponatura dalle altre farmacie e soprattutto sgrava le famiglie come dicevo dei tempi che sono lunghissimi soprattutto chi ha i figli piccoli e piccolissimi dove sono anche due tre per famiglia il rischio di quarantena prolungata per l'uno per l'altro diventa tanto invece in questo modo abbiamo accorciato di tanti tempi. Questo chiariamo è un potenziamento non esclude il servizio nelle altre farmacie che restano aperte ad ogni fascia d'età ma qui ci si concentra con un rafforzamento di questo servizio. Sì è così come dicevo prima proprio per cercare di sgravare un pochino il lavoro che si fa dalle altre l'abbiamo dedicato agli studenti ed è una cosa in più abbiamo visto già dal primo giorno sono in due ore e mezzo tre sono più di 50 gli studenti che sono di ogni ordine grado che sono venuti qui molti di questi accompagnati dai genitori o dai nonni e crediamo di aver dato un servizio sociale estremamente importante considerate che noi già abbiamo deciso di abbassare ulteriormente i prezzi a 12 euro per il tampone legato agli studenti con l'intervento del delibera del commissario figliuolo del governo per gli studenti che escono dalla quarantena che hanno ricetta medica del pediatra o del medico di medicina generale e il lavoro è gratuito perché se ne accolla e se ne fa carico lo Stato. E migliorano i numeri dei contagi nelle marche ma peggiorano al contrario quelli dei ricoveri che in un solo giorno sono aumentati di 24 unità passando da 360 a 384 pazienti e da 59 a 62 casi di questi che sono in terapia intensiva. Una situazione che si contrappone ad una flessione dell'incidenza da contagio che registra ora 2426 casi ogni 100.000 abitanti. Nello specifico nelle ultime 24 ore si sono contati 1.753 nuovi casi di cui 328 nella provincia di Pesaro e Urbino. Oggi purtroppo si annotano anche 6 e decessi di età compresa tra 76 e 95 anni. In questi giorni Marche Multiservizi sta effettuando dei lavori di manutenzione dei serbatoi d'acqua potabile nelle comune di Pesaro e dunque avvisiamo la cittadinanza che l'intervento comporterà una sospensione dell'erogazione dell'acqua o cali di pressione nella giornata di giovedì 3 febbraio dalle ore 8 alle ore 13 nelle località che vedete in grafica ovvero località Roncaglia, strada del Boncio, strada Acquabona, strada Roncaglia, via del Picchio e via Monte Bacchino. E domani primo febbraio avrebbe compiuto cent'anni Renata Tebaldi, la grandissima cantante lirica nata a Pesaro proprio un secolo fa. Città natale del grande soprano che ora dedica un importante cartellone di iniziative culturali e musicali proprio per commemorare l'artista. Il primo febbraio 1922 nasceva Renata Tebaldi e a cento anni dalla sua nascita Pesaro celebra la più grande cantante lirica italiana con un calendario ricco di iniziative, Pesaro per Tebaldi cento. Così è stato intitolato il progetto musicale dedicato alla sua concittadina, considerata una dei soprani più amati di tutti i tempi. Un programma all'insegna della musica che si svolgerà da febbraio a dicembre 2022, dove verranno coinvolte tantissime organizzazioni e istituti come il Conservatorio Rossini, l'Orchestra Olimpia, l'Orchestra Sinfonica Rossini, il Wunderkammer Orchestra e tante altre realtà musicali del territorio. Questa mattina ho sentito una carrellata di proposte e di progetti che mi hanno riempito di gioia perché in varie forme Renata verrà ricordata sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista umano. Le proposte invece ideate dal Comune di Pesaro sono due ed entrambe si svilupperanno tra luglio e agosto. La figura di Renata verrà infatti omaggiata con un programma itinerante, dal titolo Passeggiata Tebaldi, ovvero una camminata urbana, visuale, auditiva, alimentare e conoscitiva. Renata Tebaldi, il mito del canto, lo stile di una diva, è invece il nome dell'evento di punta organizzato sempre dal Comune di Pesaro che avrà sede nell'iconico Museo Nazionale Rossini. A luglio ci sarà questa mostra che attraverso abiti, oggetti e documenti che sono appartenuti a Renata Tebaldi cercherà di raccontare appunto al pubblico di oggi chi è stata l'artista ma anche chi è stata la donna, come ha vissuto, quali sono stati i suoi interessi e anche le sue debolezze, se vogliamo, debolezze umane, per cui per una donna la passione è per gli abiti di moda, per i cappellini, per gli oggetti femminili. Attraverso foto e documenti? Attraverso foto e documenti ma soprattutto testimonianze tangibili, quindi non parleremo e non vedremo soltanto in fotografia i suoi cappellini ma li potremo quasi toccare. È già partito il Tebaldi 100, è partito con una mostra all'Issio di Barcellona il 26 di gennaio e poi naturalmente come ho detto siamo in giro per il mondo, New York, Chicago, San Paolo del Brasile, Montreal e soprattutto saremo a Pesaro, città dove Renata è nata e devo dire io sono veramente onorata che Pesaro ricordi e ricorderà Renata Tebaldi con la partecipazione di tutte le associazioni musicali e le istituzioni pesaresi. Ed è stata una splendida domenica di sole ad accompagnare la prima edizione della Pesaro Marathon andata in scena ieri fra Baia Flaminia, San Bartolo e Lungomare peserese. Più di 500 i partecipanti ad una maratona seguita dalle telecamere di Rossini TV e che potrete rivedere con uno speciale realizzato dal nostro Paolo Pagnini venerdì 4 febbraio alle ore 21 e 20. Intanto vi mostriamo com'è andata in questo servizio. 3, 2, 1, via! 44 anni dopo l'ultima volta Pesaro è tornata ad ospitare una maratona. In una domenica di pieno inverno baciata da un sole splendente, più di 500 podisti hanno affrontato la prima edizione della Pesaro Marathon portata in città dall'impegno organizzativo dell'associazione Orta 10 in 10 e dal club Super Marathon che hanno tracciato un suggestivo percorso partito da Baia Flaminia su 42 km 195 metri disegnati tra i saliscendi del San Bartolo e il tratto pianeggiante del lungomare cittadino. È la prima edizione qui a Pesaro, un sogno che si avvera. Siamo stati tanti volte qui a Pesaro e a Fano in zona, però con una maratona in linea non l'avevamo mai fatto, eravamo a Fano. Per noi è già la terza organizzata quest'anno perché ci siamo portati avanti. Nonostante il Covid è un'esperienza unica stare sempre sul mare, per noi di Milano soprattutto a gennaio. Precedendo alcune grandi classiche della specialità, la prima Pesaro Marathon ha radunato anche runner di livello internazionale come il marocchino Mohamed Aji che ha vinto in 2 ore 33 minuti e 34 secondi. Ho venuto qua per vincere ma non so che la gara non ci sono gran atleti che mi fanno la gara tirata, il percorso non è proprio da tempo, il percorso è un po' duro anche per gli altri. Io ho fatto un lungo tirato finché finito la gara, non è mica speso niente proprio perché io c'ero domenica prossima un'altra gara e io sai uno che è esperto sulla maratona, ho fatto 210 maratona a mia carriera, non è poco. Ho vinto 106, non è mica poco, io lo so come si corri sulla maratona, lo so come esistire. Magari domenica prossima penso che una gara tirata, una gara perché arrivano anche gente un po' forti, lì tocca veramente spingere. Fra le donne a trionfare è stata Federica Moroni in 2 ore 49 minuti e 20 secondi. Questo è il tipo di gara che piace a me, tra l'altro questo è l'ambiente dove di solito vengo a fare il mio giro in bici d'estate e ci associo anche il bagno, quindi qui c'è tutto, c'è panorama, mare e poi la baia che è meravigliosa. Per me la prima parte è stata fantastica, io amo i percorsi collinari quindi il massimo. Dopo ovvio sul mare c'è la gente che giustamente passeggia se gode la domenica e quindi sì, quando bisogna guardare l'orologio ci si può godere il panorama, io arrivo rilassata devo dire la verità. La fatica c'è ma è una fatica in cui prevale il piacere diciamo. Nutrita anche la partecipazione alla mezza maratona vinta da Andrea Barcelli e Paola Braghiroli. Un percorso molto impegnativo di salite e discese però è un buonissimo allenamento per me muscolare e poi con un panorama stupendo perché quando si è su la fatica diciamo è diciamo è si sente meno grazie al panorama. Sono veramente molto contento oggi anche il tempo era ideale. Il percorso molto bello, carino, impegnativo perché comunque c'erano dei bei saliscende però bella organizzazione, bella giornata oggi. A dare lo start della prima edizione Mila Dell'Adora, assessore di un comune di Pesaro che auspica come la maratona diventi un appuntamento fisso tra gli eventi sportivi cittadini. Io ringrazio in primis il Club Super Marathon che ha fortemente voluto la maratona a Pesaro. Dopo 44 anni siamo riusciti in questo grande obiettivo ma ripeto soprattutto alla grande volontà e la grande determinazione del Club Super Marathon. Loro sono tre anni che già erano a Pesaro per l'Assemblea Nazionale e quest'anno hanno voluto legarci anche la maratona e la mezza maratona. Ma ringrazio anche i tanti pesaresi che sono qua, i tanti volontari, l'Atletica Banca di Pesaro che ha supportato nella parte organizzativa l'evento. Quindi è veramente un evento che ha coinvolto la città. Questo è il mio augure che sia un punto di partenza nei prossimi anni per replicare ed aumentare i numeri. Brutta sconfitta per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ieri ha perso all'overtime contro una treviso decimata dalle assenze. Vittorie invece importantissime nel calcio e nel volley per Vispesero e Megabox Vallefoglia. Terza sconfitta consecutiva per la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Probabilmente quella con meno attenuanti. Perché se è vero che la doppia trasferta in quattro giorni fra Brescia e Trieste non fosse la miglior ricetta per pesaresi provati dal Covid e dall'assenza di lavoro in palestra, questa volta i presupposti erano ribaltati. Pesaro si presentava all'appuntamento casalingo con Treviso confortata da una settimana piena di preparazione. Treviso arrivava alla Vitrifico Arena decimata dalle assenze e praticamente senza sostituzioni. Peccato però che la VL abbia sbagliato partita fin dall'approccio arrivando al tempo supplementare in cui teoricamente doveva disporre di ancora più forze fresche degli avversari. Ma così non è stato. Hanno vinto i veniti 105-108 all'overtime e per Pesaro riemergono prepotenti, ansie da una classifica tornata estremamente deficitaria. Faccio ammenda per non essere riuscito a dare alla squadra le componenti di natura tecnica ma soprattutto di natura mentale per approcciare questa gara con il dovuto atteggiamento. Il modo in cui siamo entrati in campo a inizio gara e inizio terzo periodo sono lì a testimoniare la nostra poca preparazione. Quindi è legittimo che in un momento come questo, di fronte a una prestazione del genere, io debba fare delle riflessioni sui motivi e come si possa arrivare a fornire una gara del genere. Quando poi le cose si complicano è ovvio che cresca l'ansia, la preoccupazione, e questo lo abbiamo pagato in termini di frenesia, con eccessive proteste che ci sono costate anche dei falli tecnici e in generale degli errori anche piuttosto macroscopici frutto di una smarrita lucidità. Ci sono state tante occasioni che avremmo potuto e dovuto gestire meglio per portare a casa una vittoria che comunque in chiusura di tempo regolamentare era sembrata essere alla nostra portata. E come detto mi prendo per primo la responsabilità della scarsa prontezza e preparazione che la squadra ha dimostrato in una serata importante come questa. Redenzione piena invece per la Vispesero che dopo il negativo debutto di Anno Nuovo col Teramo si riscatta alla grande a Pistoia e spugnando il Melani con il più classico gol dell'ex. Quello di Niccolo Gucci, arrivato da Pistoia a Pesero un anno fa, è ripresentatosi a Pistoia col colpo di testa vincente su Assis di Denuzzo che al 51esimo è valso la rete da tre punti. Finisce 1-1 invece per l'Alma Juventus Fano che a vasto pareggio con rigore di Torturi al 94esimo il vantaggio abruzzese di Alessandro arrivato all'82esimo. Nella pallavolo vittoria di piramidale importanza per la Megabox Vallefoglia che a Urbino ha la meglio per 3-7-0 su Bergamo, diretta concorrente nella lotta salvezza ora lasciata all'ultimo posto a tre punti di distanza. E con le notizie di sport si chiude questa nostra edizione del telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo però la nostra prima serata che come ogni lunedì è dedicata a Check Up Obiettivo Salute. Il nostro format realizzato in collaborazione con Fisioradi Medical Center che questa sera avrà come ospite la relazione medica di Giada Salvatori, medico-chirurgo specialista in ortopedia pediatrica che ci parlerà dell'ortopedico pediatrico e del suo aiuto verso i nostri bambini. Appuntamento alle 21.20 con prima replica alle 23.15. E vi anticipiamo anche un appuntamento del prossimo mercoledì 2 febbraio alle 18.30. Rossini TV sarà infatti in diretta dal Duomo di Pesaro in occasione della giornata della vita consacrata come detto mercoledì 2 febbraio alle 18.30. Ed è davvero tutto per questa nostra edizione delle telegiornale. Da parte mia e di tutta la relazione vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi.